Adesso, guarda, questa tua domanda è curiosa perché si aggancia a quello che volevo dire. Se noi pensiamo bene alla dottrina, tutti noi abbiamo studiato storia, no? Nelle scuole. Quando studiamo la storia antica, quindi quella egizia, quella sumero-accadica, ci sentiamo dire che sono miti, che sono leggende, no? Che sono favole attraverso le quali i popoli del tempo hanno voluto... Bene, tutti gli studiosi biblisti, tutti, sanno, e lo scrivono in assoluta tranquillità, che i racconti di origine della Bibbia non sono altro che coppie rielaborate di racconti, in particolare sumero-accadici e fenici. Bene, noi ci troviamo di fronte ad un'affermazione assurda. E l'affermazione della dottrina è questa, che i racconti sumero-accadici e fenici sono miti, favole, leggende. I racconti della Bibbia sono verità ispirata da Dio, per cui noi abbiamo gli originali che sono dei miti, le coppie rielaborate sono verità ispirata da Dio. Io devo dire che sono stati molto bravi nel raccontarci questa roba qui e farcela credere. Questo vuol dire che gli Elohim leggevano la Bibbia sumero-accadica. No, diciamo che gli Elohim sono loro che hanno dettato la, fra virgolette, Bibbia dei sumero-accadici, che è quella più antica, cioè sono i racconti più antichi, e quindi lì si sono registrate le memorie. Non è un caso, tra l'altro, che quei racconti lì siano molto più particolareggiati della Bibbia. Cioè la Bibbia è veramente un bignami di quei racconti lì, ed è un bignami anche perché la Bibbia, purtroppo, è finita nelle mani dei teologi, ebrei prima e cristiani dopo, ovviamente, e quindi è stata tutta rielaborata in funzione teologica. I racconti da cui deriva sono molto più particolareggiati, per esempio i racconti della fabbricazione dell'uomo, che nella Bibbia sono ricondotti ad un evento unico, cioè si dice Dio ha deciso di fare l'uomo e l'ha fatto, punto. No, là ci raccontano addirittura degli esperimenti sbagliati che hanno fatto, si raccontano addirittura da dove hanno preso quel pezzo che la Bibbia chiama Zeleme, che dicevo prima è stato tagliato fuori. Là c'è scritto che lo prendevano purificando il sangue dei loro maschi giovani. Quindi tutto questo nella Bibbia non c'è più, perché nella Bibbia si è deciso che quello doveva essere Dio, e quindi si dice Dio decide di creare l'uomo e l'uomo è fatto. No, là ci raccontano che hanno fatto degli esperimenti sbagliati, cioè prima di arrivare a fare quello giusto, che là non a caso si chiama Adamu, prima di arrivare a fare l'Adamu, che è l'Adam biblico, hanno fatto un sacco di altri individui che non funzionavano, e questo è estremamente concreto, estremamente bello e affascinante.